Dalla domanda cattiva o dalla fascina? Fai tu, fai tu, fai tu. La Crisci è candidata al regionale per il Partito Democratico, iniziamo diciamo con calma. Sì, sì, il Partito Democratico è la mia casa, è sempre stata la mia casa. È un partito con chiare difficoltà, a maggior ragione in questo momento, molto particolare, in cui abbiamo dovuto subire anche l'abbandono del Movimento 5 Stelle della coalizione. Direi da Conte, più che dal Movimento 5 Stelle, perché anche lì dentro le polemiche sono scoppiate e abbiamo visto cosa ne pensavano alcuni esponenti siciliani del Movimento 5 Stelle. Era un lavoro lungo, che era cominciato con l'opposizione al governo musumeci, si poteva fare tanto insieme, pur nelle nostre differenze, con le nostre differenze. Caterina Chinnici è un buon candidato presidente, è una persona di alto profilo, non solo morale, anche... Guarda che io volevo parlare del candidato Crisci, più che del spaziare in quello che... È chiaro, ma devo spiegare perché sono lì e rimango lì. Avrei potuto cambiare casacca come stanno facendo tanti, ma non lo faccio perché la mia casa è quella del fronte progressista e liberale. Da lì, dentro il partito, vorrei che potesse arrivare una voce del territorio e portare dentro il partito e dentro l'ARS i bisogni di questo territorio. Chi ha amministrato da sindaco si accorge di quali sono tutte le strutture, i collegamenti spezzati, gli anelli mancanti tra il territorio e la regione, tra gli enti locali e la regione, nella gestione dei fondi comunitari, nella gestione dei fondi regionali. Ci sono tanti buchi che a volte sembrano frutto di troppa trascuratezza, ingenuità, inerzi, che a volte sembrano lasciati apposta perché il sistema cliente interale possa continuare all'infinito. una volta c'era più, non lo so, anche più rapporti tra, parliamo di territori, parlava appunto dei territori, e magari uno si sedeva a un tavolo, si discuteva di una candidatura comune del comprensorio per avere un rappresentante e quindi avere più possibilità per andarsi a sedere all'assemblea regionale. la domanda è facile, noi stiamo vedendo che ogni paese ha il suo sindaco candidato all'assemblea, è veramente, a parte la dispersione dei voti, nessuno si andrà a sedere, diciamo questo potrebbe essere... Il rischio è questo, una frantumazione eccessiva dei voti, e quello che stiamo vivendo è dovuto al fatto che gli schieramenti ai partiti tradizionali via via hanno perso il collegamento con il territorio e le personalità che si sono impegnate, più che le personalità, le persone che si impegnano nel territorio pensano di avere sempre minore, cioè scarsa, minore o nessuna opportunità di avere voce dentro i partiti tradizionali. Ecco perché poi si sono creati movimenti, sottomovimenti, frazioni, fino ad arrivare a quello che poi saranno e stanno per diventare i partiti personalistici. È come se ognuno avesse il proprio partito, questo è anche il frutto della devastazione delle correnti all'interno dei partiti. Io sono rimasta dentro il partito perché vorrei che questa cosa finalmente cambiasse. Forse è un obiettivo di... Ma no, magari per dare un calcinculo a Bobo Cracchis, non so. Ah, Bobo Cracchis ha la sua storia. La sua storia, il calcinculo certamente, difficilmente ci può suonare io che mi candido alle regionali, ma che invece ai segretari regionali e al segretario nazionale arrivi la voce dei territori, è importante e per questo ringrazio anche Teleiato che magari mi dà un'opportunità. Parliamo del bagaglio della Crisci che porta all'Assemblea, dell'appello al voto, perché poi in questa campagna elettorale verrà richiamata dall'emettente di alleato e ne parleremo con una lunga ruota libera. Oggi presentiamo la Crisci candidata, quindi la Crisci si candida, cosa porta all'interno, qual è il bagaglio che porta all'interno del partito e dell'Assemblea? All'interno del partito porto la mia militanza dal primo giorno in cui il partito si è costituito. Io sono un'iscritta storica. Nel bene e nel male non ho mai abbandonato la barca e c'era davvero tante volte la tentazione di farlo. Sono sempre stata convinta che le cose se si vogliono cambiare non si possono cambiare lamentandosi e demandando. Tu ti lamenti ma devi proporre soluzioni. Se vuoi cambiare le cose le devi cambiare anche dall'interno. Il sistema ormai non è che è erodato, cioè è talmente erodato che non funziona proprio più. Perché è cambiato tutto nel mondo intorno a noi, è cambiato tutto il sistema di comunicazione, di radicamento dei territori, è totalmente cambiato. L'abbiamo visto con la pandemia, abbiamo visto quando il Presidente Conte e poi il Presidente Musumeci si appellavano ai sindaci che erano le sentinelle del territorio, i front office, quelli sui quali venivano scaricate problematiche e a cui si chiedeva di richiedere soluzioni. Io porto questa esperienza, esperienza di sei anni di sindacatura, sono adesso consigliera comunale, quindi la mia esperienza nelle istituzioni continua è l'esperienza di avere lottato per ottenere un territorio pulito. Il territorio pulito si è fatto grazie alla raccolta differenziata, a tutto quello che era stato fatto prima che vi insediassi, ma anche e soprattutto durante il mandato. Abbiamo lottato contro gli sporcaccioni, l'abbiamo visto, ma abbiamo lottato per avere delle tariffe tari più basse, per incentivare il compostaggio di comunità, quello domestico, per migliorare il regolamento tari, per arrivare a sensibilizzare la popolazione. Siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati e per un periodo siamo stati proprio un modello per tanti paesi della nostra dimensione, della dimensione di Montelepre, per il territorio. Ma di contro, quando le cose andavano bene e la nostra raccolta differenziata aumentava in percentuale, ci siamo dovuti scontrare con la carenza delle infrastrutture, prima tra tutti la questione del organico e della mancanza di piattaforme. Abbiamo chiesto a gran voce alla Regione un tariffario, cioè che qualsiasi fosse la piattaforma a cui rivolgersi, il tariffario doveva essere uguale, un prezzo identico, per non incentivare il privato, per calmierare. Di questo ne parleremo con un'ampia ruota libera. Facciamo l'appello al voto e diciamo alla gente che l'ex sindaco Crisci è candidato. Per il momento fermiamoci qui. Pino, mi hai chiesto quali sono il bagaglio di esperienza che porto. La battaglia per l'ambiente, per una sostenibilità vera. La parola sostenibilità deve essere riempita di significati. E' inutile che parliamo tutti di sostenibilità. E poi che cosa chiediamo l'inceneritore? Ma questo sarebbe proprio uno simoro. E poi la mia esperienza per quel che riguarda la ricerca di quelle politiche attive per una equità di genere. Non parliamo di parità. La parità è ancora talmente lontana. Dobbiamo parlare di equità. Dobbiamo venire incontro ai problemi dei giovani, tutti i nostri giovani, a partire da quando sono studenti pendolari per la provincia e abbiamo una serie infinita di problemi, per esempio per il trasporto, per poi parlare di quando questi giovani finiscono gli studi. La provincia è tagliata fuori da tantissime opportunità. Le donne, che sono quelle che sono in maggior numero disoccupate, la disoccupazione femminile ha dei numeri che sono scandalosi in Sicilia e nelle province ancora di più. Quindi io faccio appello al voto, faccio appello al voto a quelli che si sentono di appartenere alla mia area, alla mia area progressista, liberale, del PD, del centro-sinistra. Ma faccio appello ancora di più a tutti quelli che invece un'area non sanno di averla, non la vogliono avere più, che sono scontenti e che pensano giustamente di poter avere in Maria Rita Grisci una voce, una voce del popolo. Non c'è bisogno che vi dica quanto so essere battagliera, perché mi avete vista, mi avete eseguita. Sapete della mia battaglia per l'acqua pubblica, veramente pubblica. Sapete la mia battaglia per i diritti delle fasce più deboli, sapete quanto ho lottato per ottenere dei miglioramenti, per esempio sulle norme che riguardano il finanziamento delle spese per il ricovero di donne e ragazzi che subiscono violenza domestica, ma anche per il ricovero dei malati psichici. Ho fatto tante battaglie da sindaco, cercando di smuovere, rompere un sistema regionale sordo ai bisogni veramente, ai bisogni veri della provincia. E francamente io da elettore sono stanca delle passerelle dei deputati che hanno consolidato la loro notorietà politica con le regalie e con tutto quello che vediamo proprio in prossimità delle campagne elettorali. Faccio un appello per votare Maria Rita Grisci, Caterina Grisci, presidente, per arginare il pericolo di una destra autoritaria. Attenzione, non autorevole.